Quattro persone, fra cui una minorenne, sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto intorno alle 14 sulla strada provinciale 238 Altamura-Corato, a 6 chilometri d'Altamura e a 5 da Gravina, nei pressi di uno svincolo. Due le auto coinvolte, in una viaggiava un intero nucleo familiare i cui tre componenti sono rimasti tutti feriti con prognosi variabili, ferito anche l'occupante dell'altra vettura. Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 238 all'altezza dell'incrocio con la strada provinciale 202 e le murge di Gravina. Uno dei due veicoli viaggiava verso Altamura, l'altro si metteva sulla Altamura-Corato. La dinamica è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Altamura per le indagini del caso. Nell'immediatezza dei fatti, i primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti di passaggio. Una delle persone ferite è in condizioni più serie rispetto alle altre, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.